Ciao a tutti, so di essere sparito per un po' di mesi o addirittura anni, adesso non ricordo più bene però visto che ho un pochettino più di tempo e visto che sto lavorando su progetti personali per rimpolpare un po' il mio reel, ho pensato che magari potrei condividere queste cose mentre ci lavoro magari farvi vedere un pochettino cosa faccio e magari riuscire a spiegarvi qualcosa o trasmettere qualche concetto cosa volevo dire? Ricordo che in un commento, in un video precedente, qualcuno aveva parlato della fortura mi aveva chiesto ma sarebbe carino che si imparasse qualcosa, che potessimo guardare assieme qualcosa riguardante la foratura in nuke e visto che comunque qui più o meno c'entra, ad esempio forare questo schermo sostituirlo, fare roto dei vari elementi che devono essere poi collocati sopra, in questo caso il dito ma si potrebbe poi traslare a tutta l'attrice volendo e io qua sto lavorando su un roto dedicato soltanto al foreground si potrebbe appunto andare ad analizzare o comunque lavorare su questa clip e collateralmente andare a integrare le varie cose cioè andare a ragionare un po' sulla foratura, vedere quali sono le tecniche principali o i nodi principali in nuke e cose di questo tipo se ci fossero degli argomenti che vi interessano e qui ci sono varie tecniche, vabbè c'è appunto tutto il discorso dello screen replacement quindi il tracking, planner tracking, tracking manuale, tracking assistito, camera tracking ci sono un po' di cose che, un po' di tecniche diciamo relative al tracciamento poi la foratura roto e che altro e poi vabbè, sì, qua in basso in realtà tutta l'idea era quella di andare a giocare con l'inserzione di un elemento di cosmesi cioè in questo caso un piercing comunque un ritocco cosmetico 3D ok, quindi io qua avevo renderizzato in 3D c'è un lavoro pazzesco per una cazzatina in realtà però, beh, è giusto per divertirsi, imparare qualcosa e quindi sarebbe anche questa cosa qui che potrebbe essere interessante se mi fate sapere quello che vi può piacere di più io posso iniziare a preparare dei video e poi caricarli purtroppo vi dico, non sono stracostante perché ho mille cose in ballo quindi se avete urgenza o comunque, sì figo, vogliamo vedere qualcosa magari ci vuole un attimino cerco di stare dietro a questo canale, tra virgolette cioè, sì, è un canale YouTube ma che seguo pochissimo infatti ho due video in croce però in questo periodo dove appunto siamo tutti un po' bloccati dove c'è meno lavoro io sto lavorando in realtà però magari riesco a ritagliarmi un po' più di tempo perché lavoro da casa non posso garantirlo al 100% però insomma, quando ho tempo da dedicarci volentieri niente, tutto qui quindi fatemi sapere se vi può interessare e ci riaggiorniamo io vi abbraccio virtualmente tutti non sono in Italia spero di tornare presto perché mi manca e basta ci aggiorniamo insomma, fatemi sapere io preparo, inizio a preparare magari qualche tutorialino da caricare ok? un saluto ciao 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 ciao